Sono Luca, ho 32 anni, sono un prete diocesano della diocesi di Bergamo, sono prete da 6 anni e il vescovo mi ha chiesto di andare in Bolivia nella diocesi di Cociabamba, in particolare nella parrocchia di Conde Bamba, dove dovrei essere parco, svolgere questo servizio pastorale. La voglia di missione, la voglia di partire è sempre un po' nata, stata, cresciuta dentro di me, avevo uno zio missionario, può darsi che anche lui abbia fatto qualcosa in me. Il desiderio di partire, il desiderio di essere un prete per il mondo, di essere prete nel mondo e essere prete con il mondo è un po' sempre stata presente nella mia vita, possiamo dire che è cresciuta in me, forse anche aiutato un po' dalla testimonianza, dall'esempio che avevo uno zio missionario saveriano in Sierra Leone e quindi magari anche la sua parola, il suo modo di fare mi ha aiutato un po' in questa disponibilità per la diocesi di Bergamo a andare in Bolivia. In questi anni sono stato in oratorio e poi la parrocchia era grande, erano due parrocchie in verità e quindi il parroco seguiva una parrocchia e io seguivo l'altra, però particolarmente sulla pastorale giovanile, la pastorale dei ragazzi. La tradizione di Bergamo in Bolivia dura da 51 anni e un po' mi spaventa perché adesso devo andarci io, però credo che la presenza bergamasca, la presenza di preti di Bergamo sia buona, anzi forse ottima e l'essere sulle strade del mondo nel 2013 come prete bergamasco mi dà forza, mi dà aiuto, mi fa pensare che fortunatamente non esisto solo io, ma c'è ancora una diocesi che mi vuole bene anche, anzi che addirittura mi manda in Bolivia o sulle strade del mondo, comunque nel mondo e per il mondo. Porto con me in particolare tante persone che mi vogliono bene, perché è vero noi partiamo, però non ci stacchiamo totalmente fortunatamente. Porto con me il desiderio di ascoltare le persone che incontrerò in Bolivia, porto con me magari anche tanti sogni e tanti desideri che magari è un po' difficile sviscerare così, però porto con me anche questa voglia di crescere personale che sicuramente forse io darò qualcosa a quella gente che incontrerò, ma certamente saranno loro che daranno il più a me per crescere.